Ancora segnalazione di finti operatori Enel in pieno centro storico, ieri pomeriggio a Faenza, a lungo corso Saffi e nelle vie attorno a Piazza delle Erbe. Giovani distinti in giacca e cravatta, ma senza alcun tesserino di riconoscimento, si sono presentate le porte di alcuni residenti con la solita scusa di proporre tipologie di contratti più vantaggiosi. In mano una cartellina con alcuni fogli riportanti all'intestazione di Enel Energia, ma nessun altro documento di riconoscimento è stato fornito a chi ne ha fatto la richiesta. La tattica utilizzata sembra essere sempre la stessa. Suonare i campanelli delle abitazioni nella speranza di trovare individui facilmente raggirabili, soprattutto anziani, ai quali riuscire a distorcere sommi di denaro o di rubarli direttamente mediante un complice pronto ad entrare in azione una volta distratta la vittima. Diversi i colpi messi a segno con questa tipologia di truffe nell'ultima anno nella nostra città. Il più eclatante venne portato avanti ai danni di un anziano residente nella zona di Via Filanda Vecchia, ai quali due malviventi, spacciatesi per tecnici dell'acquedotto con tanto di divisa, riuscirono a sottrarre 30.000 euro in denaro e oggetti preziosi dopo aver convinto l'uomo a mettere tutti i propri averi nel frigorifero, con la scusa di dover usare prodotti chimici che solo il frigo avrebbe schermato. Una tipologia di truffa che a Feenza ha colpito più di una volta, come in tutto il nord Italia, con bottini sempre di qualche migliaio di euro. Ma sono diverse in realtà le truffe portate avanti in questi mesi sul territorio. Dai finti operatori che propongono falsi contratti o dalla truffa del frigorifero si è passati ben presto alle false raccolte fondi per contrastare la violenza sulle donne o per finanziare i progetti messi in campo dall'Istituto Oncologico Romagnolo. Molto utilizzato purtroppo anche l'espediente dell'amico del figlio, mediante il quale alcuni anziani sono stati convinti a prestare delle somme di denaro a degli estrani, con la promessa di recapitare il tutto al figlio in difficoltà. I truffatori in questi mesi non si sono fatti mancare nessun tipo di travestimento, si sono spacciati per operatori sociali, per funzionare della Sisal, per gioiellieri o per finti feriti a seguito di un incidente stradale simulato. L'appello rimane sempre il medesimo, chiamare ogni volta le forze dell'ordine in quanto nessun operatore di ente privato, istituzionale, di azienda comunale o di realtà di volontariato è autorizzato al porta a porta senza aver fissato precedentemente un appuntamento via telefono e men che meno autorizzato a prendere somme di denaro. Denunciare sempre ogni tipologia di truffa subita, anche quando la vergogna per essere stata vittima di un raggiro è molta e la somma sottratta è bassa, anche perché la propria denuncia può aiutare le forze dell'ordine ad evitare ulteriori raggiri.